il gioco mazzolo allora che sapore ha questa salvezza intanto c'è l'invasione pacifica dei tifosi impazziti Io penso che il Lecce abbia meritato questa salvezza perché ha sempre lottato, ha visto aperto, ha sempre fatto gioco, non è stato mai favorito da niente, abbiamo avuto sempre qualche problema negativo. Sono le vittorie più belle perché sono sofferti, anche oggi sono state le grandi difficoltà però abbiamo dimostrato che siamo una squadra che meritiamo questa raggiunta salvezza. Beh, indubbiamente ci siamo giocati la permanenza in Serie A, non ci siamo comunque giocati il futuro della società, stiamo lavorando in questo senso, voglio dare una parola di speranza a tutti i tifosi che ci hanno seguiti con una commozione intensa, stiamo lavorando perché Torino nel futuro non debba più patire sofferenza come quest'anno. Toro seduto, se non matato, già alla mezz'ora quando Benedetti incorna splendidamente il gol che premia la superiorità del Lecce, più compatto e agile a centrocampo, più attento in difesa. Non c'è reazione Granata, né idea né altro, se non in avvio di ripresa, ma l'illusione dura poco. La seconda spada tra gli olè e un fioretto argentino di Beto Barbas, intimo amico di Maradona, e si vede sudamericana anche la danza di Carlo Mazzoni. Stavolta il toro scalpita e anche a testa bassa, Fuser riaccende un filo di speranza sulla panchina Granata, fino ad allora ammutolita senza nemmeno il conforto di buone notizie dagli altri campi. Vatta comunque qualcosa lo vuol raccogliere. Adesso il toro carica con il cuore ma senza cervello, arriva il colpo di grazia, ultimo pasticcio Granata nel campionato dei pasticci. Ingenuo sabato spietato Paciocco, toro in B, 30 anni dopo, per il Lecce la prima permanenza in A, conquistata soprattutto nel girone di ritorno, due sole sconfitte contro Inter e Napoli. Catalda, una festa annunciata, nonostante le polemiche. Dopo una settimana realmente di sofferenze atroci, perché in 13 anni che sto a Lecce, a Lecce non avevamo mai una partita drammatica come questa. Siamo stati sempre in una posizione di classifica, vorrei dire tranquilla, perché eravamo a tre punti dal quarto ultimo posto. Invece gli ultimi risultati ci hanno messo in condizione che in 90 minuti dovevamo giocarci tutto. Il drammatico era questo. In questa ultima partita direi che è stato allo specchio del campionato. La squadra ha avuto paura di attaccare dall'inizio, ha avuto paura di osare, perché ha avuto paura di non farcela portare a termine un eventuale risultato. Quando stava per uscire dal guscio ha beccato il solito gol evitabile e poi ha reagito, ma ormai è una squadra che ha così tante debolezze accumulate durante il campionato. È un po' come un pugile che ne ha prese tante e che poi va a K.O. al primo colpo. Ecco Vatta, c'è nel Torino l'amarezza di andare in B, forse anche la consapevolezza che tutto sommato è stata tra le quattro peggiori squadre del campionato? L'amarezza è nel constatare che era evitabile, perché io credo che il Como, che pure ha fatto buone cose, ma il Como va serenamente in Serie B. Il Pisa lo stesso, loro sapevano all'inizio che avrebbero dovuto lottare, adesso vanno in B e ripartono per ritornare in A. Per il Torino è una retrocessione storica, dopo che si era pensato di aver costruito una squadra di classifica medio-alta e quindi è grave, è una retrocessione molto grave, perché è una squadra metropolitana, perché alle spalle ha un passato glorioso. Adesso non vorrei fare della retorica, ma andava difeso meglio questo passato. Ecco, ma lei torna ai suoi antichi lavori, vale a dire, alle squadre giovanili del Torino? Sì. E in arrivo fascetti, mi pare. Sì, io ho sempre dichiarato che questa per me era una parentesi non piacevole, non ho mai detto che era piacevole, perché ci sono, avvengono cose, succedono cose inaudite a livello di prima squadra. Quindi lascio ad altri il compito di erodersi il fegato e io torno nel mio mare pulito.